Adesso proseguiamo, abbiamo ancora due interventi. Passo la parola a Marco Marchetti, presidente dell'Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie Università del Molise, circa le cose che abbiamo visto e di cui abbiamo discusso. Grazie, sono qua come Aissa. Aissa, come è stato detto, raccoglie 23 società scientifiche che sono accreditate presso il MIUR nel campo agrario, agroalimentare, forestale e ambientale, perché non è un soggetto comunemente conosciuto. È stato molto interessante sentire tutto, grazie per l'invito. Evito di ripetere cose già dette. Mi spiace che l'assessore sia andata via perché anche aver evidenziato la tematica del verde connessa al problema del consumo di suolo mi sembra sia una cosa veramente abbastanza profetica e importantissima rispetto al tema dei servizi ecosistemici. Noi già nel 2013 proponemmo una legge quadro sul suolo a valle della strategia europea che forse molti qua dentro conoscono ed è stato una delle cose rimaste un po' inascoltata, come temiamo resterà inascoltata anche in questa legislatura, visti i venti degli ultimi giorni, la legge sul consumo di suolo. Questa è un'altra delle consapevolezze che dobbiamo passare forse ai cittadini. Suolo di cui parliamo in senso un po' ampio, giustamente non possiamo entrare troppo nello specifico tecnico-scientifico perché dobbiamo far crescere invece la consapevolezza dei cittadini, sono d'accordissimo con questo, e di cui il consumo è soltanto uno degli aspetti di degrado. E questo penso che invece sia una cosa che dobbiamo in qualche modo ricordare. Così come dobbiamo ricordare che ormai la tecnologia ci consentirebbe anche di entrare un po' più nel dettaglio, di vedere quali suoli e quali consumi, perché forse questo ci potrebbe anche aiutare in alcuna scelta di pianificazione. Noi ci sono dei suoli, e forse il collega professore Terribile che mi seguirà dirà qualcosa di più specifico, che non possiamo più permetterci di perdere. Io sono per il consumo suolo zero e il recupero di qualificazione in un paese che ha il trend demografico in discesa e milioni di divani vuoti o di capannoni vuoti. Però abbiamo dei suoli che non possiamo più permetterci di consumare. Pensiamo all'esempio che è stato fatto, riserva del litorale, Maccarese, la valle del Tevere, per essere qua vicini a Roma. E questo per dire che invece abbiamo un sistema, e questo life è un embrione di quello che potrà essere fatto, che ci può raccontare anche quali sono le tipologie di consumo, a cosa porta questo consumo. Ricordiamoci che i dati e i numeri che abbiamo visto, Michele Munafo lo sa bene, sono dei dati assoluti che riguardano in genere il sedime dei fabbricati. Ma l'effetto del consumo di suolo diretto e misurato con i sistemi che abbiamo visto oggi va bene al di là. Gli spazi interstiziali residui della frammentazione causata dall'Urba Sproul o dall'Urba Sprinkling, come più frequentemente abbiamo nel nostro paese, sono per esempio devastanti sulla biodiversità. Sappiamo che esiste una correlazione scientificamente provata tra matrice territoriale, che conosciamo tutti la parola rete ecologica, una matrice inversa che è quella legata alle specie esotiche, aliene o comunque ubiquitarie opportuniste in campo animale e vegetale, flora e fauna, che vengono fortemente agevolate dal consumo di suolo perché vanno a riempire tutti quegli spazi residuali, intestiziali, brown e non green, detta un po' all'europea, che restano spazi inutilizzati, abbandonati e che sono un altro dei fenomeni che dobbiamo mettere sotto controllo, su cui forse dobbiamo darci delle priorità. Pensiamo alla periferia di Roma, l'assessore ha detto giustamente una cosa per volta e credo che la notizia che ci ha dato sul servizio Giardini sia significativa, ma un dubbio che mi è venuto una provocazione che vorrei lanciare, oltre che alla capacità di discriminare e discernere quali usi, quali consumi su quali suoli. E anche forse la struttura che abbiamo in mano, si è accennato alla città metropolitana, che ne abbiamo 12 in giro per l'Italia, di cui Roma è quella più paradigmatica, Napoli non consideriamola perché è già arrivata a saturazione totale, come Gaza in Palestina, ma se pensiamo a una città come Roma che ha, è stato detto, il verde storico forse più importante d'Europa, è il centro storico più grande del mondo, nessuno ha detto, è il comune agricolo più grande d'Europa, ma sono delle contraddizioni che in qualche maniera dobbiamo riuscire a risolvere anche a livello strutturale. Come fa un povero assessore all'ambiente a dover mantenere 44 milioni di metri quadri di verde e poi occuparsi anche della realtà delle produzioni agricole? Riuscirà, forse con grande sforzo, vedo, a occuparsi delle tenute, delle vecchie aziende agricole comunali, il Castel di Guido, il Cavaliere, ma oro se riescono a rimetterle in piedi, ma tutto il resto, tutta quella situazione che circonda la nostra città, che sulle vie consolari è il ricettacolo delle discariche, delle specie aliene, della devastazione sociale che sono sempre collegate, chi se ne occupa di quello? Sono problemi, lo dico a livello di provocazione, che non riguardano certamente la città, riguardano tutte le aree metropolitane del nostro paese, qualcuno l'ha detto adesso ultimamente, un numero che non è uscito, noi siamo ai vertici europei per il consumo di suolo, 7%, la media europea è 4.3%, questo è scritto nel rapporto ISPA dell'anno scorso e nel rapporto dei JRC a Bruxelles, sono numeri su cui non possiamo, essendo stati il paese che nel 600 è stato inaugurato dal Grand Tour, che ancora vendiamo come paesaggio, perché ci stiamo anche investendo sopra su agroalimentare e paesaggio, essere quelli che con l'altra mano poi e inconsapevolmente, se i cittadini pongono i problemi che sono stati posti adesso sulle piste ciclabili a Roma, riescono invece a devastarsi e a farsi del male da soli, pensando sia alla tematica nostra che alla tematica delle generazioni future. Un ultimo punto, ne avrei tante altre considerazioni da fare, è quello sul tema servizi ecosistemici, quando dico in realtà state attenti perché il consumo di suolo ha un effetto ben maggiore sui servizi ecosistemici di quello che è l'effetto diretto sulla perdita di servizi, Allora, corre l'obbligo, sarà una deformazione accademica, mettere anche sull'avviso rispetto ai numeri, è chiaro, questi numeri che abbiamo visto sono finalmente significativi perché ci aiutano, sono strumenti che ci possono consentire di dare consapevolezza ai cittadini, perché quando parliamo di euro sicuramente ci stiamo più attenti e avete visto che sui 120 milioni totali la gran parte della perdita, 81 milioni, era legata alla mancata produzione agricole. Ricordiamoci però che l'agricoltura non produce solo cibo ma produce anche tutti gli altri servizi e questo è un effetto indiretto di retroazione molto molto efficace. Ma ricordo soltanto per chiudere che è proprio questo tema dell'agricoltura che è soggetto a doppia pressione perché da un lato abbiamo questo progressivo consumo che riguarda sempre gli stessi ambiti, gli ambiti di pianura, gli ambiti periurbani, gli ambiti delle coste, è stato detto, gli ambiti dei fondovalle. E dall'altra parte nel nostro Paese assistiamo alla banalizzazione legata all'abbandono delle aree interne, delle colline, delle montagne. Quindi sono tutte parti di uno stesso problema che fanno parte di quell'assenza di consapevolezza che possiamo certamente imputare alla classe politica e all'amministrazione, ma che credo che innanzitutto sia dei cittadini che ormai sono fortemente urbanizzati, non hanno più una coscienza e una consapevolezza di tipo almeno rurale perché poi la parte ambientale spesso è gestita anche in modo superficiale e che invece dovremmo cercare di ricostruire. E il tema del consumo di suolo è forse il più semplice da raccontare con tutto quello che si porta appresso. Grazie.